In questo nuovo video parleremo dell'ultima regione che ci resta, del nord Italia. Con oggi infatti chiudiamo questa prima fascia del nostro paese con l'Emilia-Romagna. Allora, vediamo la regione dal punto di vista fisico, come sempre, quindi partiamo dai confini e poi vediamo le caratteristiche peculiari fisiche. Allora, a nord vediamo che confina con Veneto e Lombardia. Poi, a ovest, confina con ancora un po' di Lombardia, un pettettino di Piemonte e la Liguria. A sud confina con Toscana, Marche e la Repubblica di San Marino. Ovviamente poi tutta la riviera che si trova a est è bagnata dal mare Adriatico dove appunto sorge la cosiddetta riviera romagnola, poi vediamo perché si chiama così. Come notiamo che è divisa dal punto di vista fisico questa regione. È molto netta la linea di demarcazione, vedete, c'è questa linea diagonale che ci divide la parte di pianura, ovviamente la pianura padana, e la parte prima collinare poi montuosa. Chiaramente la catena montuosa è quella degli appennini, se vogliamo entrare nel dettaglio si tratta di appennino Ligure nella parte più a ovest e poi la parte più consistente, vedete che quella più estesa, è fatta dall'appennino tosco-emiliano, anche marchigiano un pochino. L'unico monte un po' alto degli appennini è il Monte Cimone che appunto supera, seppur di poco, i 2000 metri. Ovviamente che scendono dagli appennini verso il Po o verso l'Adriatico abbiamo diversi corsi d'acqua che possono essere sia fiumi sia torrenti. Allora, tra i più importanti, mi raccomando, ricordate la Trebbia, il Taro, il Panaro, con l'accento sulla seconda A, il Reno che appunto attraversa anche un pochettino di Bologna. Sempre restando nell'ambito dei corsi d'acqua abbiamo in questa regione una parte consistente del delta del Po, la bocca appunto del Po di Goro e le relative paludi che si creano appunto nell'area di Comacchio, appunto le cosiddette valli di Comacchio. Questa è l'unica parte, cioè quella più a nord, della costiera un po' paludosa. Il resto presenta delle coste basse e sabbiose. Chi è andato al mare nella riviera Adriatica, soprattutto appunto tra Ravenna e Cattolica, sa benissimo che si può camminare per tanti metri senza che l'acqua diventi troppo profonda. Che clima troviamo in questa regione? Chiaramente un clima prevalentemente continentale. Poi è chiaro che se vado in cima al Monte Cimone troverò un'area un po' più fresca, però generalmente la parte di pianura presenta un clima continentale. Parliamo ora della regione dal punto di vista politico. È divisa in nove province. Sono disposte in fila, potremmo dire, man mano che si prosegue verso l'autostrada, l'autostrada appunto che va nel sud del paese, che appunto dopo l'ingresso in Piacenza attraversa la regione per questo senso fino a Bologna, dove poi a Bologna fa una svolta verso il meridione. Appunto percorrendo l'autostrada A1, quindi quella che da Milano porta fino al sud Italia, si incontrano in fila queste fasce parallele di queste prime quattro province. Sono Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena. Poi abbiamo Bologna, che è anche il capoluogo di regione, a nord Ferrara. E poi perché c'è questa linea tratteggiata con le ultime tre province, ossia Ravenna, Forlice-Sena, che è una provincia unica perché hanno unito i Rimini? Perché anticamente, nel discorso dei secoli, questa regione, e ve lo faccio vedere con questa carta che potremmo definire quasi storica, è stata divisa in due elementi principali. Infatti, perché si dice Emilia-Romagna col trattino in mezzo? Perché per tantissimo tempo, pensate dalla caduta dell'impero romano d'Occidente fino all'unità d'Italia, queste due aree sono state distinte. Hanno avuto ognuna la propria storia. Infatti, la Romagna, cioè, grosso modo, non è detto precisamente, la Romagna, grosso modo, occupa queste tre province, abbiamo detto, poi anche un pochino in quelli di Bologna. La Romagna, che cos'è stata? La Romagna, dopo che è caduto, appunto, l'impero romano, è passata prima sotto il dominio dell'impero bizantino e poi sotto lo stato della chiesa. L'Emilia, invece, ha avuto una storia completamente diversa perché ha avuto, soprattutto nel rinascimento, dal Cinquecento in particolar modo, dei ducati particolarmente importanti e quindi più o meno autonomi. Poi ci sono stati periodi in cui sono stati più autonomi, altri periodi in cui lo erano di meno. Quindi è una motivazione storica. Fino all'unità d'Italia, quindi fino al 1861, queste due aree erano distinte. Infatti, se oggi magari si chiama Romagnolo, uno che è emiliano, o il contrario, queste persone si offendono anche un pochino perché ci sono delle notevoli differenze. Un esempio. Il piatto tipico fra i tanti di questa regione è, ad esempio, quello dei cosiddetti tortellini. Giusto? I tortellini sono dei ravioli di carne che si mangiano nel brodo. Un piatto tipico di Bologna. A Bologna, che è Emilia, come si chiamano? Si chiamano tortellini. In Romagna, invece, lo stesso piatto, perché chiaramente poi si era vicini, quindi le tradizioni erano spesso simili, lo stesso piatto, che appunto si mangiava anche lì, perché dopo tutto si era vicini, si chiamavano cappelletti. Alla fine lo stesso piatto. Però loro ci tengono queste differenze. Vediamo due immagini di Bologna. Bologna, eccola, vedete qui in una vista aerea. Cosa si nota? Allora, si notano due elementi principali, secondo me. Allora, il primo, che è quello che balza subito all'occhio, è il colore. Bologna è rossa. Si dice che Bologna è la grassa, Bologna la rossa, Bologna la dotta. Perché? Allora, la grassa, perché è una cucina particolarmente ricca di grassi, si mangia tanto maiale, ci sono anche altri tipi di condimenti che la rendono per definizione una cucina molto gustosa, molto buona, però anche grassa. Poi, la dotta, perché? La dotta perché a Bologna c'è la prima università italiana, 1088 nasce la prima università italiana, e quindi è dotta, perché si studia a Bologna. E poi la rossa? La rossa sì, un po' per i mattoni che la contraddistinguono, e un po' perché storicamente è una città molto tendente a sinistra, ecco, dal punto di vista politico. Secondo elemento invece che magari si nota un po' meno, ma magari zoomandolo, vedete, eccolo qui, qua c'è un pettettino di portico. E vi li mando subito una foto più avanti, perché a Bologna, pensate, eccola qua. Qua si vedono meglio i portici. I portici sono una delle caratteristiche primarie di Bologna. A Bologna potete, si dice, camminare, anche nei giorni di pioggia, come oggi in cui io sto registrando, potete camminare senza bagnarvi, senza avere con voi un ombrello. Perché infatti tutti questi porticati sommati compongono 42 chilometri, cioè si potrebbe fare una maratona di corsa tutta sotto i porticati. È un elemento tipico di Bologna. È qualcosa che sicuramente noterete se vi recherete in visita a questa. Certo, poi abbiamo le due torri. Un altro simbolo di Bologna, la Torre degli Asinelli, che è quella più alta, e quella della Garisenda. Sono un'altra traccia medievale di questa città. sono state costruite quando le famiglie appunto volevano concorrere. Più avevi la Torre Alta, più eri importante. Chiaramente hanno vinto gli Asinelli con quella più alta. Non sono solo queste le torri di Bologna, queste sono le due più vistose, ma ce ne erano nel Medioevo altre cento circa. A Bologna, sempre, questo il libro non ve lo dice, ma c'è questo compianto, quindi sul Cristo morto, quest'opera che trovate nella chiesa di Santa Maria della Vita, un'opera di Nicolò dall'Arca, che secondo me è fenomenale. Guardate l'espressività di Maria Maddalena, com'è disperata nel vedere che Gesù è morto. È una cosa impressionante. Guardate, vi faccio vedere magari in questa foto in cui si vede, spero meglio, eh no, perché è un po' piccola, però guardate che disperazione, come proteso in avanti, è una statua veramente, secondo me, di bellezza rara e di espressività altrettanto notevole. Parlando di geografia umana, serviamoci di questa carta stradale, che cosa dobbiamo rilevare? Allora, un attimo di dati sulla popolazione. Quanti sono gli abitanti dell'Emilia Romagna? Sono circa 4 milioni. Ma il dato più importante è quello sull'immigrazione. Infatti l'Emilia Romagna è la regione con il maggior tasso di immigrazione, ossia più dell'11% della popolazione, quindi vuol dire che se prendete 100 abitanti, 11 sono stranieri. Oltre a questo dato, mi interessa, andiamo a vedere le cose più importanti, oltre quindi all'immigrazione, vorrei farvi vedere le vie di comunicazione. come dicevo prima, è attraversata dall'autostrada A1, quindi quella che va da Milano a Napoli. Vedete qui, ingresso a Piacenza, fino a Bologna, poi Bologna svolta, e va verso Firenze, l'A1. Qui continua un'autostrada, certo, perché qui nasce l'Adriatica, che va da Bologna, poi fa tutta la rivera Adriatica, e va giù, 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 fino alla Puglia. Un'altra autostrada, e arriviamo con la terza più importante di questa regione, che mi premo in sottolineare, è quella da Modena, che va a nord, e arriva su fino al Brennero, quindi al confine tra il Trentino Alto Adige e l'Austria. Un'altra autostrada piuttosto importante, ecco, è la Cisa, quindi se nei pressi di Parma, decidete di attraversare l'Appennino, fate il passo della Cisa, ed è l'autostrada che porta nella parte costiera della Toscana. Se volete andare a Pisa, dovete fare la Cisa, a Parma appunto fate il passo, valicate gli Appennini, ed eccovi che arrivate giù a Mastacarrare, poi Pisa, Luca, insomma questa parte della Toscana. Se volete andare a Firenze, invece, proseguite dritto, a Parma non prendete la Cisa, andate fino a Bologna, e in un attimo qua con i trafori nuovi, arrivate a Firenze. L'ultimo aspetto che vediamo di questa regione, insieme, è quello dell'economia, come organizzata l'economia dell'Emilia Romagna. Allora, sicuramente è molto valido un settore primario, abbiamo infatti molta pianura, e quindi è chiaro che l'agricoltura e l'allevamento costituiscono una parte fondamentale dell'economia di questa regione. Chiaramente, notate subito che appunto, come abbiamo detto prima, c'è una forte divisione netta, la parte più di pianura, più bagnata dalle acque dei torrenti e dei fiumi, che sarà più fertile, e una parte, invece quella collinare, intendo che sarà meno fertile. In questa seconda si coltiva più frutta, mentre in quella più pianeggiante, e quindi più fertile, avremo un allevamento e un'agricoltura più intensive, quindi con grosse aziende, che producono queste materie prime. Poi abbiamo sicuramente anche il settore secondario, in questo caso la produzione industriale si rivolge prevalentemente al settore alimentare, è una regione, diciamolo subito, in cui è molto importante, e a chi piace il gusto a tavola, sicuramente farà piacere, è una regione in cui è molto importante il settore alimentare. Non a caso in questa regione abbiamo la sede di importantissime aziende, come la Barilla, come la Rana, e tante altre. Non a caso abbiamo anche dei salumi, che sono tipici di questa regione, pensate al prosciutto crudo di Parma, è proprio un unicum praticamente invidiato in tutto il mondo, ma a Piacenza ad esempio è tipico il salame, la pancetta, la coppa, a Parma oltre al crudo abbiamo anche il culatello, a Modena il cotechino, a Modena poi il cotechino, lo zampone, il famoso zampone che si mangia a Capodanno, e poi ovviamente a Bologna è famosissima la mortadella. Non solo di salumi però si tratta, sia bene sottolinearlo. Parmigiano reggiano e dov'è? È proprio di questa regione. Eccolo qua, tra Parma e Reggio Emilia, parmigiano reggiano. Un altro formaggio, un prodotto tipico italiano che ci invidiano in tutto il mondo. Lo squacuerone, un altro formaggio, tutto il settore della pasta, le tagliatelle, la pasta fresca, le piadine, le piadine romagnole. È quindi una regione in cui il gusto a tavola la fa da padrone. Chiaramente poi c'è anche il settore terziario, è ormai un settore in questo mondo così avvantato di cui non si può assolutamente fare a meno. In questo caso è Bologna, la città appunto capoluogo di regione, che ospita i principali esponenti di questo settore. Ricordiamoci, ad esempio, alcune catene in grande distribuzione, quindi i supermercati Conad e Coop sono di questa regione. Ha anche le assicurazioni Unipol, gruppo Unipol assicurativo, è sicuramente terziario ed è a Bologna. E poi, molto importante, per l'economia soprattutto romagnola, perché è in questa fascia, quindi quella della Romagna, il turismo. Il turismo da Ravenna a Cattolica, con capitale, diciamo così, del turismo, Rimini, è importantissimo per l'economia di questa regione, specialmente ovviamente d'estate. Anche dall'estero, tanti si recano al mare in questi luoghi, non solo al mare, ma anche appunto per degustare tutti i prodotti tipici culinari di questa regione, anche il turismo è molto, molto importante. Chiaramente la parte più di pianura e più collinare o montuosa si presta molto meno al turismo. Però la parte della costiera basta per fare dei bei numeri di turismo per tutta la regione. Con questo io chiuderei, ci vediamo alla prossima.